Dobbiamo poi salvaguardare lo spirito di Schengen. Sì, certo, il sistema di Schengen è parzialmente in coma e coloro che credono nell'Europa, nei valori dell'Europa, nei principi dell'Europa, nelle libertà dell'Europa, tentino e lo faranno di rianimare lo spirito Schengen. Se lo spirito Schengen abbandona i nostri territori, i nostri cuori, perdiamo più di Schengen. Una moneta unica non fa quello che fa Schengen, quindi Schengen non è un concetto neutrale, anodino, ma è una pietra angolare della costruzione europea. Ancora una volta vorrei lanciare un appello agli stati membri. Devono fare ciò che ha promesso il presidente Schmidt, con grande eleganza. Ha ricordato stamane alcune decisioni tradotte in pratica da parte del Consiglio e degli stati membri. Dobbiamo continuare per questa strada e la Commissione farà di tutto perché gli stati membri si ricordino degli impegni che erano stati sottoscritti. Dobbiamo assistere meglio del passato i vicini prossimi della Unione Europea. La prestazione collettiva della Giordania e del Libano sono veramente prestazioni ammirevoli e dobbiamo assistere con grande empito e trasporto i popoli in questione che si sono sobbarcati un greve fardello nell'ambito della crisi dei profughi. Abbiamo la tendenza a concentrarci sulla nostra cooperazione con la Turchia.